L'ospedale di Agropoli e la politica agropolese è il titolo della trasmissione tv che Cilento Channel ha programmato in diretta stasera lunedì 8 novembre alle ore 18 e 30 per continuare ad approfondire le problematiche che circuitano intorno al nosocomio agropolese. Alla trasmissione sono stati invitati politici, associazioni e comitati. Si svolgerà presso la sala dell'oratorio Papa Giovanni Paolo II in piazza della Repubblica d'Agropoli rispettando le normative anticontagio. La diretta televisiva sarà attenzionata da tutti i 42 mila firmatari della petizione riaprite il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Potrà essere eseguita inoltre sul canale 636 della Digitale Terrestre, sul sito www.cilentochannel.com e sulla pagina Facebook Cilento Channel. Per informazioni è possibile scrivere alla redazione redazionechiocciolacilentochannel.it